Sindacati e lavoratori erano pronti anche allo sciopero con la convocazione di assemblee. I vertici di Tecra però dopo giorni di attesa hanno sbloccato il pagamento delle retribuzioni della mensilità di maggio. Tutte le sigle sindacali hanno fatto blocco segnalando pubblicamente ritardi ormai costanti che si registrano per l'avversamento degli stipendi da parte dell'azienda Campana che in città continua a gestire le servizio rifiuti in proroga. Oltre alle richieste sindacali c'è stato l'intervento istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Sammito che ha avuto contatti con i responsabili aziendali nell'attentativo di arrivare al rispetto degli obblighi contrattuali e al pagamento delle retribuzioni anche per evitare disagio al servizio. I sindacati hanno più volto e spiegato che Tecra non osserva il termine del 15 di ogni mese fissato per i pagamenti. I sindacati dopo giorni di fortissima tensione avevano già fissato delle assemblee per martedì dalle 9 alle 11 e per giovedì prossimo da mezzanotte fino alle 4 del mattino. Chiaramente con lo sblocco dei pagamenti sono state revocate. I sindacati le avevano comunque fissate anche per valutare altri aspetti del servizio. Il Palazzo di Città già alcune settimane fa ha disposto il pagamento del canone mensile all'azienda campana che poi dovrebbe procedere entro il 15 di ogni mese all'avversamento delle retribuzioni. I sindacati hanno anche dichiarato lo stato di agitazione e si temevano appunto disagi nello svolgimento del servizio. L'azienda tra le altre cose a seguito di richieste ufficiali inoltrate dalle sigle sindacali aveva anche fissato un incontro previsto per la prossima settimana. Operai e sindacati in assenza di risposte soprattutto sulle retribuzioni non escludevano lo sciopero. In settimana nel corso di una riunione di maggioranza convocata dal sindaco Lucio Greco per valutare il piano economico finanziario per il servizio rifiuti il dirigente Fabio Filippino ha spiegato che il settore continua comunque a tenere alta l'attenzione su Tecra e sul rispetto del contratto. L'azienda campana opera da tempo in proroga in attesa del passaggio al servizio in house affidato ad impianti SRR.